Allora, questa è la chiesa rupestre di Santa Margherita di Antiochia che vediamo rappresentata al centro. Praticamente è una delle tante chiese rupestre di origine basiliane presenti nel territorio. Si presenta a navata unica, divisa in due campate da un arco carenato. Al suo interno presenta due altari ed è quasi completamente ricoperta di affreschi. Come epoca di realizzazione degli affreschi abbracciamo tutti i 1200, quindi non c'è un momento unitario né uno stile univoco di rappresentazione. Sono intervenute più maestranze anche momenti diversi e con una base stilistica di riferimento diversa.